Buonasera cari telespettatori, benvenuti in questo spazio di approfondimento che questa sera verte sulle domeniche ecologiche. Sarà una regolamentazione straordinaria della viabilità della città di Fano dovuta, adesso capiremo perché, chiaramente alla questione ambientale e alle polveri sottili. Lo facciamo con i graditi ospiti che ho con me questa sera in studio. Salutiamo subito il comandante del corpo di polizia locale a Narita Montagna, benvenuta. Buonasera. E l'assessore all'ambiente, Samuele Mascarin, benvenuto e buona serata. Allora, non per dovere di cavalleria ma per ripercorrere un po' il filo logico che ha portato a questo provvedimento. Iniziamo da lei, assessore. Dopo capiremo con la comandante quali sono le modifiche e come verranno orchestrate in queste due domeniche. Allora, assessore, siamo arrivati a questo provvedimento partendo da una storia ben precisa, che è un dato che ci è stato fornito fino ad ora dalle centraline di rilevamento. Sì, va detto che in realtà noi da diversi anni abbiamo ogni anno una media relativamente alta rispetto al numero di superamenti giornalieri nel corso dell'anno che ci vengono confermati dalla centralina di monitoraggio di via Montegrappa. Nel 2019 abbiamo concluso con un numero importante di superamenti, precisamente 36, quindi superando, seppur di poco, la soglia limite prevista dalla normativa di 35 superamenti consentiti durante l'anno solare. Superamenti che però sono stati riconducibili anche a un contesto di condizioni climatiche e meteorologiche che ovviamente non solo a Fano ma un po' in tutto il territorio del centro nord Italia ha portato ad acutizzare la problematica del inquinamento nell'aria ambiente, in particolare per quanto riguarda le emissioni di PM10, cioè di polveri sottili. Ma il dato allarmante che ha portato l'amministrazione comunale e il sindaco a intervenire con un'ordinanza che a partire dai prossimi giorni produrrà speriamo alcuni effetti positivi per affrontare e in qualche modo mitigare i problemi che in questo momento avvertiamo da un punto di vista del rischio ambientale ma anche della salute pubblica, sono i dati che sono stati registrati sempre dalla centralina di monitoraggio di via Montegrappa all'inizio di questo anno 2020. Oggi siamo al ventiquattresimo giorno e abbiamo già certificati 13 giorni di superamento con alcuni dati particolarmente elevati la scorsa settimana. Quindi abbiamo ritenuto che non ci fosse tempo da perdere e che fosse assolutamente indispensabile mettere in campo degli interventi contingibili e urgenti che potessero nell'immediatezza dare una risposta importante a questa problematica senza per questo accantonare altri interventi che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane cercheremo di condividere con la città e con tutti gli operatori perché è chiaro che se oggi c'è un'emergenza che è resa tale anche delle condizioni climatiche e meteorologiche è anche vero che c'è un dato strutturale dell'inquinamento da polveri sottili nella nostra città che richiede degli interventi strutturali. In primo luogo sulla viabilità, quindi ripensare alcuni elementi della mobilità nella nostra città diventa un'esigenza che va oltre anche l'emergenza che in qualche modo oggi vogliamo provare ad affrontare con le domeniche ecologiche e che richiederà in particolare di affrontare il nodo che da decenni la nostra città porta con sé, cioè quello di un grande traffico di attraversamento, in particolare sulle direttrici della famiglia e dell'Adriatica, che chiaramente deve avere una risposta anche infrastrutturale che il piano regolatore che l'amministrazione comunale sta approntando ovviamente dovrà affrontare. Ma queste sono risposte di medio e lungo periodo. Noi abbiamo oggi un'emergenza da affrontare e cerchiamo di affrontarla con una proposta sperimentale perché le domeniche ecologiche vogliono essere nelle nostre intenzioni, un esperimento di cui vogliamo verificare anche il grado di efficacia per capire se è una formula che estesa tutto il territorio cittadino potrà eventualmente essere una buona risposta anche nelle prossime settimane oppure se dovremo immaginare interventi ancora più importanti e radicali. Ecco ricordiamo agli spettatori che le due domeniche ecologiche sono la prossima, quindi 26 gennaio e quella del 2 febbraio e il traffico sarà interdetto in un lasso di tempo che va dalle 9 della mattina alle 19, quindi alle 7 di sera. Ma chiedo subito al comandante qual è il perimetro che è stato considerato per questo blocco del traffico e come verrà orchestrata un po' la circolazione. Il perimetro è sostanzialmente quello del carnevale, è la chiusura leggermente diciamo più estesa per cui potremmo definire quasi un triangolo di zona che è interdetto alla circolazione e che è ricompreso sostanzialmente tra le vie Gabrielli-Veneto che sono quelle che portano all'ospedale per intenderci, la statale nonché la parte di Flaminia, quindi la via Roma. È interdetta in questo triangolo. Per cui per dare delle informazioni più precise alla cittadinanza che è abituata un po' ormai la cittadinanza fanese è abituata alle domeniche di carnevale e quindi sa che ci sono delle deviazioni ed è diciamo più o meno la stessa. Ma venendo diciamo dai grossi punti per cui per chi proviene ad esempio dalla superstrada, autostrada oppure dalla zona di Sant'Orso e si mette sulla via Papiria verso Ponte Rosso, lì ci può arrivare. Poi potrà svoltare a sinistra perché ovviamente va verso l'interno della città oppure potrà anche svoltare a destra ma lì c'è un primo blocco, un primo varco e quindi immediatamente prendere la prima via destra che è la via Don Gentili che riporta poi verso la via Mameli, Gabrielli e Veneto per raggiungere l'ospedale o la stazione ferroviaria. Sono stati ovviamente previsti gli accessi per arrivare nei punti principali della città che sono l'ospedale, che sono la stazione ferroviaria e la stazione degli autobus. E quindi per chi viene da Ponte Metauro e quindi dalla direzione sud di Fano può percorrere tutta la statale, può arrivare come appena detto fino alla stazione ferroviaria ma lì alla rotatoria non potrà andare a sinistra e proseguire verso la statale in direzione diciamo Pesaro ma potrà soltanto proseguire diritto per raggiungere poi la zona mare. Perché il secondo varco, quindi il secondo blocco, come succede attualmente nei pomeriggi delle domeniche di Carnevale c'è la deviazione obbligatoria a destra verso mare e quindi la zona anche del centro storico è ovviamente interdetta alla circolazione. Per chi proviene invece da Pesaro che è l'altro grosso accesso alla nostra città, la viabilità è sostanzialmente identica a quella delle domeniche di Carnevale perché c'è il blocco all'altezza del semaforo di via Morganti e quindi diciamo il semaforo di zona Lido che porta a Lido, gli automobilisti quindi sono invitati e obbligati a girare a destra verso poi la zona cimitero e gli interquartieri. Abbiamo adesso a disposizione per chi viene dall'interno della città la nuova viabilità per cui la nuova rotatoria, quella che è prevista anche davanti per intenderci alla caserma dei vigili del fuoco, già lì avremo un'indicazione per Pesaro per cui prendendo quella strada si agevola tantissimo il transito, cioè si limita il transito verso la città e si agevolano i cittadini che vogliono andare verso zona Pesaro. Per chi comunque non svolta lì più avanti la seconda rotatoria, quella dell'interquartieri, quella con la fontana al centro per intenderci di San Cristoforo, anche lì c'è la possibilità di andare a sinistra verso Pesaro o a destra. Per chi prosegue ancora lungo la Flaminia in direzione Fano, il blocco lo trova come per la domenica di Carnevale all'altezza di via dell'Abbazia, ossia la via che porta poi a prendere la superstrada autostrada e quindi questa è pressoché identica. Per quanto riguarda i divieti, perché anche noi sono giunte delle segnalazioni sui veicoli, quelli non inquinanti, e dicono ma avendo io un mezzo a metano posso transitare? La risposta è no. Perché? Perché i divieti di transito sono stati messi dall'amministrazione sostanzialmente per due ordini di motivi. Il primo, il più importante, è l'inquinamento e quindi la tutela della salute pubblica, ma oltre a questo c'è anche un motivo di sicurezza perché facendo delle chiusure in alcune vie ci sono delle inversioni dei sensi di marcia e quindi si è reputato anche per motivi di sicurezza di vietare i transiti a tutti i veicoli, salvo quelli autorizzati. I veicoli al momento autorizzati sono quelli a servizio delle persone dei disabili. Questo perché comunque l'amministrazione ovviamente è sensibile a persone che hanno delle problematiche e quindi difficoltà di ambulare e consente a tutti questi di poter tranquillamente circolare. È consentito il transito ovviamente anche a mezzi pubblici e taxi, proprio perché chi ha una emergenza, un'esigenza e non riesce a transitare con un mezzo privato, possa poi beneficiare anche di questi mezzi pubblici. E al riguardo dico anche che il comando è ovviamente a disposizione, quindi qualunque abbia delle difficoltà, invito a chiamare al nostro comando perché noi siamo aperti dal mattino presto fino ovviamente tutto l'orario di chiusura ed oltre, qualunque necessità, poi delle soluzioni le abbiamo insomma sempre trovate. Bene, dopo le farò una domanda anche sulle sanzioni perché ci sono delle sanzioni per i trasgressori e quindi dopo chiederò anche questo. Assessore, allora abbiamo capito che sostanzialmente è un anello, è un nucleo e qualcuno si è chiesto in questi giorni, parlando di questa cosa, perché solo in questo nucleo si è pensato di provvedere a questo blocco del traffico che ricordiamo non è soltanto in entrata ma è anche in uscita, cioè quindi anche chi ha la macchina nel centro storico non potrà utilizzarla, questo sembra scontato ma forse è bene sottolinearlo perché forse così qualcuno dice ma io ci abito, ho la macchina e non posso uscire. No, il blocco è sia in entrata che in uscita, questo lo dobbiamo dire per dovere di chiarezza. Assessore, allora perché avete pensato a questa zona? Abbiamo pensato a questa zona innanzitutto perché è quella in cui rileviamo una più importante concentrazione di polveri sottili, quindi c'è anche come dire la necessità di agire in prossimità di quelle che sono le zone che individuiamo come più critiche e vale la pena ricordare che in quell'area insistono il più grande asilo nido della città, la più grande asilo materna della città, due scuole elementari e una scuola superiore, quasi 2.000 studenti, quindi è chiaro in questo senso che l'intenzione è nell'immediato riuscire a intervenire su una parte particolarmente critica della nostra città che presenta anche alcuni elementi rispetto ai quali bisogna essere attenti e sensibili soprattutto quando si parla di salute pubblica. Inoltre come ricordavo prima c'è un dato infrastrutturale importante che riguarda quel perimetro che la comandante ha descritto e cioè c'è l'intersezione tra i due assi viari Flaminia e Adriatica che portano all'interno della nostra città letteralmente nel cuore di Fano un importante traffico veicolare di attraversamento. In questo senso in questi giorni qualcuno ha osservato giustamente che il tema delle polveri sottili è un tema che è riconducibile solo in parte al traffico veicolare, è verissimo perché ci sono anche altre fonti, quelli ovviamente che riguardano l'impiantistica, i riscaldamenti, la produzione industriale, la panificazione, insomma ci sono diverse voci a cui possiamo ricondurre il problema delle emissioni di PM10 nell'aria ambiente, però il dato del traffico veicolare è un dato importante, rilevante, che incide sulle percentuali e sui rilevamenti che abbiamo dei superamenti e soprattutto è anche l'ambito di intervento in cui più facile e più immediato mettere in campo un intervento che abbia un qualche grado di efficacia. Dopodiché è chiara una cosa e questo ci tengo a sottolinearlo, per noi queste domeniche ecologiche sono una sperimentazione, perché sappiamo anche per le esperienze che stanno mettendo in campo altri comuni in Italia, in particolare nel centro e nord dell'Italia, che la chiusura delle domeniche è ovviamente una risposta parziale e per certi aspetti forse anche modesta rispetto all'entità del problema che ci troviamo ad affrontare, ma una risposta parziale che può portare però a ridurre, a mitigare e in qualche modo a governare un problema che in questo momento rappresenta elementi assolutamente straordinari, è per noi comunque un valido motivo per mettere in campo un intervento che ha il pregio di poter essere immediato. E quello che diceva la Comandante è importante rispetto anche alla ricaduta sugli abitudini della nostra città. La nostra è una comunità che è già abituata a confrontarsi con dei cambiamenti di viabilità importanti come quelli che riguardano i percorsi mascherati del Carnevale. Quindi abbiamo anche pensato che appunto a fronte di un intervento immediato questo potesse essere diciamo anche un perimetro meglio gestibile non solo da parte delle forze dell'ordine, ma anche da parte dei cittadini che dovranno confrontarsi con queste modifiche. Ovviamente per noi è importante il 26 gennaio e il 2 febbraio poter misurare il grado di efficacia della domenica ecologica anche in considerazione del fatto che contrariamente a quello che molti pensano, nelle ultime settimane noi abbiamo registrato dei superamenti, dei limiti di legge delle PM10 anche nelle domeniche che quindi non sono giornate come dire che in qualche modo rappresentano una minore criticità, al contrario anche perché ribadisco le condizioni climatiche e meteorologiche incidono profondamente anche diciamo così sulla rilevanza dei dati che poi noi possiamo registrare in questo periodo dell'anno che è generalmente quello più critico, ma quest'anno abbiamo ovviamente dei dati che ci portano a mettere in campo interventi straordinari che misureremo se possono diciamo così ricondursi unicamente a questa sperimentazione delle domeniche ecologiche oppure se le domeniche ecologiche dovranno essere appunto una sperimentazione funzionale a interventi ancora più complessivi. Beh diciamo anche che il fatto di avere queste due domeniche pre carnevale e poi a disposizione le altre tre domeniche non dico con un blocco simile ma quasi proprio dovuto al carnevale sono cinque domeniche consecutive che insomma si avrà su questa zona un fermo, uno stop comunque delle auto perché bene o male tra il carnevale del mattino e il carnevale del pomeriggio il lasso di tempo è quello di queste due domeniche ecologiche quindi quando è alla fine la striscia sarà un po' più lunga ci saranno anche le altre tre domeniche. Chiedo alla comandante però l'aspetto anche normativo, legislativo e sanzionatorio di questo l'altra faccia della medaglia perché chiaramente ci sono anche delle sanzioni previste dal codice della strada per i trasgressori coloro che insomma non vogliono osservare questo anche qui ci sono dei distinguo giusto? Dico bene. Sì ci sono dei distinguo perché violare un divieto di transito messo per motivi di inquinamento e quindi con veicoli inquinanti comporta una sanzione specifica prevista dall'articolo 7,13 bis di 168 euro. Non solo è prevista anche in caso di recidiva nel biennio sospensione di patente che va da 15 a 30 giorni per cui la sanzione è pesante e qui fa anche capire l'intervento del legislatore qual è il valore che sta sotto. Cioè dire violare un divieto di transito messo per motivi di inquinamento e tutela della salute pubblica a questo equivale una sanzione più pesante proprio per far capire il valore di fondo. Diverso è violare un divieto di transito che l'amministrazione emette per motivi di sicurezza o per motivi comunque ritenuti utili in cui abbiamo un altro articolo specifico del codice della strada che è articolo 7,13 in cui la sanzione è di 87 euro senza prevedere alcuna sospensione di patente. Ecco perché le due sanzioni sono distinte in base a, passa, viola un divieto di transito, un veicolo ritenuto inquilante oppure un veicolo che non lo è. Questo è il distinguo. Ma adesso più che focalizzare l'attenzione sulle sanzioni vorrei focalizzare l'attenzione intanto su quello che, ripeto, è sempre il motivo per cui sono stati posti questi divieti e invitare la cittadinanza al rispetto quanto più possibile perché quando si comprendono le motivazioni per cui un provvedimento viene messo c'è anche sempre un maggior rispetto spontaneo da parte di tutti e questo ci tenevo a ribadirlo e d'altronde sono stati fatti, comprendo che ci sarà un disagio per tanti, perché lo si comprende. Il prevedere la domenica piuttosto che un giorno feriale, quindi un giorno lavorativo, va anche incontro un pochino alle esigenze delle persone, per cui la domenica è un giorno individuato proprio perché per creare minor disagio e soprattutto anche comunque più che l'aspetto del controllo sanzionatorio l'aspetto diciamo anche preventivo. Ogni incrocio, quindi ogni intersezione dove è previsto un divieto in cui non si può passare sarà segnalato dall'apposito cartello ovviamente, ma sarà anche presidiato o da parte del personale del nostro di polizia locale o da parte di protezione civile o comunque con il posizionamento di una transenna che renda proprio ben visibile che in quella strada non si può passare perché c'è un divieto. Il problema più grande magari sarà per chi è dentro quest'area, perché avete focalizzato bene il divieto e anche in uscita. Qui anche a livello preventivo abbiamo chiesto di mettere dei cartelli informativi all'interno del parcheggio dell'ex caserma, perché anche questo è un parcheggio che raccoglie una buona fetta di utenti residenti all'interno del centro storico. Per cui per dire che informare ancora di più che dalle ore 9 alle 19 non solo è vietato l'ingresso ma anche l'uscita dalla zona che la chiamiamo, questa zona verde, questa green zone. Per cui cerchiamo di informare il più possibile e questi passaggi sono proprio così per avvisare. Ecco diciamo anche comandante che chi vuole recarsi in centro può usufruire degli altri parcheggi a ridosso del centro, penso al Foro Boario, penso al Van Vitelli, comunque quelli sono usufruibili. Sono fruibili, sia quello del Foro Boario che è un parcheggio molto ampio, il Van Vitelli e quindi tutti i parcheggi di zona mare che in questa stagione sono abbastanza liberi, ma anche il parcheggio di Viale Kennedy. Perché venendo anche chi proviene da Pesaro che è obbligato a svoltare a destra in via Morganti e quindi la via che ci porta al cimitero, poi può comunque percorrere la via della giustizia Viale Kennedy. Per cui sia il parcheggio del cimitero che il parcheggio di Viale Kennedy. E proseguendo in via Roma anche comunque il parcheggio quello di via Roma che è solitamente a pagamento, che la domenica è libero e gratuito. Per cui questi parcheggi sono fruibili dalla cittadinanza. Ecco, quindi insomma organizzandosi e sapendo questi dettagli che la comandante ci ha detto, volendo il centro non sarà desertificato, ma è solo la modalità di accesso e poi i fanesi hanno a disposizione la bicicletta in casa e quindi insomma questo è anche un Movens, Assessore, è vero che l'amministrazione sta percorrendo quello della mobilità green, la mobilità dolce e quindi questo è un percorso ben preciso al di là comunque dello smog che potrebbe, facendo anche un piccolo salto culturale, aiutarci in questo senso, no? Penso. Sicuramente ci sono delle abitudini non solo della mobilità che vanno pazientemente cambiate, modificate. Per quanto riguarda la mobilità c'è la necessità sicuramente di poter incentivare di più quello che è l'utilizzo della bicicletta o delle aree pedonali, ma in questo senso necessariamente bisognerà anche concertare con gli operatori del centro storico tutta una serie di elementi come quello dei parcheggi, delle navette che consentono di ottimizzare comunque queste soluzioni che migliorano la qualità della vita, ma possono anche migliorare come dire la fruizione degli spazi pubblici della nostra città, soprattutto del centro storico. In questo momento però è bene ricordare che gli interventi che mettiamo in campo per le domeniche del 26 gennaio e del 2 febbraio hanno un valore in qualche modo eccezionale e sperimentale, come dicevo, e alcune soluzioni che invece riguardano specificatamente il tema dell'inquinamento, in particolare quello riconducibile al traffico veicolare, è evidente almeno per noi che nei prossimi mesi, nei prossimi anni dovranno trovare delle risposte che riguardano soprattutto le infrastrutture e quindi diciamo anche le grandi strade di attraversamento della nostra città, perché questo è il nodo strategico per affrontare i problemi dell'inquinamento da traffico nella città di Fano. Ecco, emergenza, risposta emergenziale, però magari si sono ventilati anche in questi giorni, altre ipotesi, tipo un lavaggio delle strade più frequenti, qualche incentivazione su le caldaie domestiche, insomma si può ragionare anche su tanti altri discorsi? Le politiche da mettere in campo sono tante, sono articolate, sono complesse, in alcuni casi per la verità penso anche il tema delle caldaie sono stati portati avanti già da alcuni anni con buoni risultati insieme anche alla collaborazione degli operatori privati del settore, ma dobbiamo saper sempre distinguere dagli interventi i cui benefici sono misurabili sul medio e lungo periodo dagli interventi che consentono invece di avere immediatamente un riscontro positivo e in questo caso noi dobbiamo affrontare una situazione che richiede per la salvaguardia della salute pubblica degli interventi e delle politiche che abbiano ovviamente una loro strategia di riferimento di largo respiro ma che nell'immediato abbiano la possibilità di essere attuate e di darci dei risultati positivi subito. Comandante, l'ultimo pensiero va anche ai suoi uomini, alle sue donne che sono impegnate in strada quotidianamente e che quindi il fattore smog forse più di altri operatori lo avvertono giornalmente, quindi insomma ha fatto bene a rimarcare l'aspetto della salute pubblica e anche di persone come voi, di operatori che vivono il traffico e lo smog quotidianamente. Un pensiero va anche ovviamente ai uomini e donne della Polizia Locale che non si trovano a fronteggiare una situazione un pochino di disagio perché cinque domeniche consecutive garantire delle chiusure è impegnativo. Bene, comandante, un calupo a lei e ai suoi uomini e donne impegnati in questa lunga striscia di domeniche di regolamentazione del traffico in modo particolare, assessore anche lei un saluto e speriamo che ci rivediamo con i risultati di queste poi misure, speriamo che siano foriere di buone notizie. Quindi grazie comandante, buon lavoro, altrettanto a lei assessore. Grazie a voi. E quindi vi ricordiamo appunto che domenica prossima 26 gennaio e quella del 2 febbraio traffico interdetto nella green zone, come ha detto la comandante, quella del carnevale sia in entrata che in uscita per contrastare insomma quello che è l'inquinamento e quelli che sono stati i dati che ci sono stati forniti dalle centraline. Quindi insomma speriamo di avervi dato una delucidazione e aver fatto comprendere il motivo per cui si è arrivati a questo e quindi c'è un invito a tutti a collaborare per il bene e per la salute di tutti noi concittadini. Bene, grazie, arrivederci ai prossimi approfondimenti. Arrivederci. Grazie a tutti.